Sono molto contenta che tu sia qua e lo sai, perché sono molto felice, perché so che a volte è bello avere un posto dove potersi raccontare. Allora, innanzitutto mi tolgo questo giacchetto, dato che adesso vi ho fatto vedere che era molto carino quella. Vabbè, a parte questo, sono molto contenta che ci troviamo qui, perché comunque siamo arrivati tutte e due a un punto in cui a grandi linee sappiamo cosa fare della nostra vita, il che è molto interessante. Ci sono successe tante cose, però è bello ritrovarci qua, dato che è tanto tempo che aspettiamo un momento di unione. Riguardo a questo io ti ringrazio, perché onestamente dopo una serie di cose che sono successi mi sono trovata un po' in una situazione in cui ho paura a dire qualsiasi cosa, quindi è bello poter parlare con una persona che comunque conosco, che mi ospita in un mondo che mi fa sentire a casa mia. Siamo più professional, meno male. Yes! Però no, è molto bello. Complimenti Sofì, perché è davvero un bel lavoro. Grazie, che sono emozionata! Il primo video che compare sul tuo canale YouTube, se vai a vedere, è un video in cui tu mostri la tua scuola, che è il Righi, e mi chiedo se lo riguardi mai. Riguardando quel video, onestamente, provo tanta gioia. È una parte di me che mi manca. E YouTube è stata la cosa più bella che sia successa, perché mi ha permesso di esprimermi a 360 gradi, in modo creativo, in modo naturale. Sperimento tante cose, quindi un po' il mio diario, tante pagine di storie. Molte pagine di questo diario sono state un po' piegate e nascoste in vari cassetti. Un po' per la voglia di tenerle private, un po' per mantenere quei sogni nascosti. Il primissimo video che c'è sul mio canale è un video in cui io canto una cover nella mia scuola di musica della provincia, vicino casa. Quindi è una cosa molto surreale da guardare adesso, che sto lavorando davvero alla mia musica. Sta per uscire un mio singolo e mi sembra totalmente surreale. Una cosa che mi piace di te, e che ti differenzia da tutti gli altri nell'utilizzo dei social, è che tu non hai paura di mostrarti sempre, vera, quindi anche nei tuoi momenti di debolezza, di paura e di tristezza soprattutto. E mi chiedo come fai a non vergognarti mai di mostrarti anche quando sei più vulnerabile. E secondo te perché le persone non lo fanno di solito? Perché in realtà mi sono sempre sentita un po' quella che improvvisa tutto, che non si fa mai il piano B, che quando conosci una persona vuole mostrargli davvero il meglio e in modo positivo. È come se vivessi come i bambini che non hanno paura perché un po' non conoscono le conseguenze. E poi piano piano ho iniziato a sentirle di botto e quindi se prima magari mi sentivo libera di dire ok questa cosa mi sta soffocando, è in piena notte però monto la videocamera, le luci ed ho bisogno di raccontarle, tirarla fuori perché è davvero quello che sento, non mi sono mai fatta il calcolo di dire magari pensi davvero che le persone riescano a percepire davvero quello che stai vivendo oppure no. Delle volte mi sento più forte e allora cerco di rimettere insieme i pezzi ed essere forte e dire adesso voglio mostrarvi che sono felice anche se sono triste e riesco a rimettere insieme, insomma a tirare avanti, dei momenti meno, dei momenti preferisco rimanere nel buio, cancellare tutto so che io abbia mai creato e sparire. E tu qualche volta hai parlato anche di depressione o comunque di momenti molto bui, che cosa significa per te avere questo tipo di momenti e come fai quando stai così? Secondo me la depressione è qualcosa che è come uno stato di serenità però è uno stato di obbligo e fondamentalmente è difficile capire quando qualcuno sta davvero male perché ci sono dei picchi di felicità e dei momenti in cui davvero dimentichi tutto e stai bene. Fondamentalmente io sto male quando ho tempo per pensare, quando ho tempo per riflettere a qualsiasi cosa che stia accadendo sento di stare male perché le consapevolezze delle volte sono tante. Cambiamo argomento, parliamo di corpo che è sempre un argomento un po' delicato che però sta diventando universale anche a prescindere dall'universo femminile. Tu che tipo di rapporto hai con il tuo corpo? Allora, con il mio corpo in realtà io ho fatto tanti anni di nuoto quindi ho avuto la fortuna anche se mangiavo tanto di mantenermi abbastanza in salute. Poi crescendo con YouTube, molti non lo sanno, ma noi finiamo un po' negli obblì delle nostre camere, nelle nostre cripte, pieni di cibo, di cose, un po' di pensieri e poi stai costantemente a contatto, cioè ti vedi costantemente. Dalla mattina alla sera sei davanti a una videocamera, poi ti editi e sai qualsiasi tuo piccolo difetto e so che mi capisci su questo. Quindi inizi già da giovane a farti mille complessi che non dovresti farti, no? E quindi io l'ho sentita un po' questa cosa, cioè l'ho sentita un po' il peso della mia immagine e adesso crescendo sento, lo sento assolutamente ancora, però ho più consapevolezza. Sono felice di essere quello che sono e nonostante delle volte mi sono sentita un po' giudicata. Mi racconti chi è Maddy e se esiste ancora? Maddy era un po' la mia sorellastra perfida, che più che perfida in realtà era la parte molto razionale di me. E quindi Maddy era la mia sorella nell'armadio, mia sorella nell'armadio, che un po' prendeva il mio posto quando io non sapevo come dire le cose, perché sentivo di dover appartenere alla grata, sono super contenta perché sono entusiasta di so che faccio, no? E poi un po' questo entusiasmo ti passa quando iniziano a esserci tante cose che in realtà diventano un lavoro e fai tipo, io non volevo questo, no? Però poi ti cambia la vita e quindi diciamo che Maddy in realtà sono molto io, cioè è una parte di me che esiste davvero. E poi un po' mi piaceva scappare da Greta. Nei tuoi video sei super vera, matta e sembri una persona molto libera, lo sei? Assolutamente, sì. Che cos'è per te la libertà? I miei video sono proprio chi sono quando sono da sola. Almeno i primi, cioè l'inizio, quando non avevo nulla da preoccuparmi. La libertà forse è davvero non preoccuparsi di come dovresti comportarti. Quella è la cosa più preziosa secondo me, è sentirsi liberi davvero di sperimentare e entrare nelle parti della tua testa magari che non vuoi mai affrontare. E adesso ci sono delle cose invece di cui ti devi preoccupare, per cui non ti senti più libera di essere te? Beh, delle volte mi piacerebbe tanto essere Greta, una ragazza di Roma, che ogni tanto viaggia e se ne va qua e là e gli piace tanto ascoltare la musica, gridare e cantare ed è molto egocentrica e si fa notare. Però solo quello, no? Mi piace tanto quando una persona non sa niente di me, allora ho carta bianca e allora posso davvero mostrare tutto. Però io sono tanto riconoscente YouTube, cioè questa qui è casa. Anche solo vedere quella, quello lì era lo sfondo dei tuoi video. Sì, quello. Sei l'unica che è entrata qua dentro che può capirmi. C'è anche lui in miniatura lì dietro. Sono un po' tutte le parti di noi che comunque ci hanno permesso di essere oggi qui a farci una chiacchierata e dire ragazzi questi sono i nostri vent'anni e abbiamo modi diversi di affrontarli, ma comunque YouTube ci ha dato tanto, no? Ci ha permesso in un modo o nell'altro di dire piacere, mi chiamo Sofia, piacere Greta e questa è la mia vita, davvero. Ed è bellissimo, no? È per questo che un po' noi abbiamo vissuto, un po' da pioniere, questo mondo nuovo che adesso è molto ambito, desiderato, ma davvero chi è che lo vive davvero? Nel senso, con quella libertà nel dire non mi interessa se in questo video sarò ricoperta di schifo, comunque dirò cose che non dovrei dire e nessuno vorrà lavorare con me perché non so neanche cosa siano le aziende, non so neanche quanto potrei fatturare, non mi interessa perché comunque è squash e quindi un po' quella lì è una cosa che per me è preziosa e non cambierei nulla. In un momento di super esposizione per te tu hai subito un lutto dolorosissimo di cui mi dispiace molto e come stai oggi? Quando perdi un genitore un po' cambia la tua vita, nel senso è come se nell'esatto momento in cui lo sai senti proprio qualcosa dentro che cambia, che non so spiegare, ma... Poi non lo so, in realtà è una cosa che non superi mai, però impari a viverci. Cioè, impari a vivere con le circostanze che cambiano attorno a te. È anche per questo che sono cresciuta in fretta e che a un certo punto molte cose non mi bastavano e che era difficile per me relazionarmi con le persone della mia età e non sapevo bene, insomma, dove andare. Però mi ha fatto crescere tanto questa cosa e mi ha fatto capire, mi ha dato proprio la percezione della vita vera. e sono una ragazza fortunata perché ho una mamma che mi vuole bene, ho tante persone che mi vogliono bene. Dio mi ha dato la fortuna di potermi esprimere e più di quello non so cosa dire. Cioè, sono veramente fortunata, anche solo essere una donna libera, al giorno d'oggi sono fortunata. Però ognuno di noi vive le proprie battaglie, no? Io le vivo nella mia testa e c'è chi le vive sulla propria pelle nella realtà che vive. Hai paura di qualcosa? Ho paura di avere tempo per riflettere. Mi terrorizza perdermi nei miei pensieri. Mi sembra sempre di... Mi sembra sempre di... Perché sai, quando ripanzi alle cose, poi modifichi sempre il ricordo in base a ciò che hai bisogno di provare. Quindi molte volte lo comprometti e lo cambi. so che devi andare avanti. Devi farti una bella doccia, metterti i tuoi vestiti migliori e uscire. Fare il giro del palazzo, però, devi uscire dalla tua cripta e affrontare il mondo che è bello, particolare, infinito e non si sa neanche perché siamo qui. Però forse è proprio quello il bello. Se lo sapessimo, non avremmo più forse una speranza nostra. Mi racconti un sogno che hai fatto che ti ricordi? Sogno molto intensamente. Nel senso che delle volte vado a dormire super... Cioè, veramente presa bene, come se dovessi andare da qualche parte. Perché ho dei sogni vividi che poi ricordo, i respiri, gli sguardi. Recentemente ho fatto un sogno in cui questa persona che è stata importante per me mi guardava dritta negli occhi. ed era veramente reale. E un po' mi ha colpito questa cosa. Delle volte cerco di capire cosa significano, delle volte no. Perché so che comunque se ho creato tutta la storia io, modificarla, inventarla, insomma, è un limite sottile. Quindi c'è una linea sottile, quindi... Quindi il tuo futuro... Nel tuo futuro ci aspetta della tua musica. E che cosa vuoi dirci con questa musica? Spero che... spero che anche solo se una persona mi dirà non hai idea, oggi mi è presa benissimo, ho messo il tuo pezzo e mi è presa bene. Io sono felicissima, non vedo l'ora di cantare su un palco, di esibirmi, è la cosa che... che più mi mantiene viva in questo momento. E questa è una cosa che mi ha fatta molto riprendere. avere questa certezza, tra virgolette, un po' mi ha... mi ha dato speranza in me. Sei un tornado, io me lo immaginavo, o meglio lo sapevo. E per questo motivo ho un regalo per te, che è un libro, che è questo qua, che si chiama Neve. Non leggo l'autore perché non so leggerlo. e proprio come il titolo, è un libro, la neve è super soffice, silenziosa e calma, però poi è anche densa e può essere anche una bufera. E questo libro è... Sofì, che bello, mi fai piangere. Filo sospeso, no, è veramente un libro che io ho adorato e ho scelto io e ci tengo tanto a darlo a te e ho scritto a Greta un attimo di respiro perché penso che possa essere giusto per te. Sei carinissima, ti giuro.